In campagna elettorale lo aveva preso come un impegno personale e oggi Nicola Zingaretti, neoeletto presidente della Regione Lazio, ha mantenuto la promessa fatta ai bambini e ai dipendenti della Casa di Peter Pan, la struttura di via San Francesco di Sales, che ospita gratuitamente i bambini malati di tumore e le loro famiglie per tutta la durata delle cure. A partire da oggi la Casa di Accoglienza potrà continuare ad usufruire dei locali senza pagare spese di affitto, spese che dal 2012 erano lievitate a 6.000 euro al mese. I locali verranno infatti conferiti alla struttura incomodato d'uso grazie al sostegno della Regione Lazio. Le case famiglia sono realtà bellissime che grazie alla passione e all'amore di tanti volontari offrono un servizio di qualità e al tempo stesso permettono allo Stato di risparmiare milioni e milioni di euro, ha affermato Zingaretti. Non ero venuto in campagna elettorale perché era giusto tenere fuori un tema così delicato da quello che era un confronto politico, però da Presidente della Regione la prima cosa che ho voluto fare è ovviamente visitare Peter Pan, garantire che andremo avanti sicuramente per il comodato d'uso gratuito a una struttura così importante. Primo perché è molto importante che chi dà tanto per gli altri senta le istituzioni vicine e non nemiche o addirittura peggio ostacolo a questa voglia di creare un buon livello e qualità di assistenza per chi ha bisogno. Ma poi perché penso che Peter Pan rappresenti un esempio per quello che vogliamo costruire nel Lazio per quanto riguarda l'integrazione sociosanitaria, cioè utilizzare la grande disponibilità di una rete meravigliosa di volontariato, di professionisti, di esperienze come questa per costruire il nuovo modello di difesa del diritto alla salute che noi vogliamo realizzare nella nostra regione. Io ho sempre detto che il problema del Lazio non è solo avere pochi o aver tagliato i posti detto, aver chiuso molti pronto soccorsi, ma il fatto che purtroppo nella nostra regione paga il fatto che esistono quasi solo i pronto soccorsi e quasi solo le ospedali. E poi c'è questa rete, in questo caso Peter Pan davvero può fare l'esempio da pioniere, di assistenza e di presenza che è utilissima, primo perché dal punto di vista dei costi, se vogliamo parlare dei costi, è incredibilmente inferiore a quella che può essere un'ospitalità ospedaliera, ma poi per l'amore, per la dedizione, per l'affetto, per la solidarietà che in questi casi il volontariato riesce a dare, anche il livello dell'offerta della qualità del servizio è immensamente superiore. La struttura della casa di Peter Pan dovrà essere esempio del sistema di integrazione sociosanitaria che intendiamo realizzare nella regione Lazio, ha concluso il Presidente.